Un allarme viene lanciato dai ricercatori del progetto Life Leopoldia sul pericolo che corrono le nostre spiagge. 250 metri in circa 50 anni e le spiagge del litorale rischiano di scomparire a causa di un costante fenomeno di erosione del dorsale costiero. Dagli studi e dagli approfondimenti emerge un dato preoccupante. Lungo il litorale di Macconi il fenomeno erosivo ha divorato circa 250 metri di spiaggia. È necessario, rilevano gli studiosi, salvaguardare ricostruire le dune costiere. Queste infatti sono un sistema mobile ed estremamente fragile. La rimozione della vegetazione, il calpestio o lo sbancamento provocano l'ingresso di vento e acqua che portano la sabbia verso l'entroterra dove sono sorte strade e costruzioni che non sono in grado di trattenerle. Valentina Ferrigno, responsabile visita e campo progetto Life più Leopoldia. E dei responsabili del progetto Leopoldia la denuncia dell'erosione continua delle nostre spiagge. Cioè in 50 anni, dalla nota che è stata inviata alla stampa, in 50 anni si sarebbe ridotta di 250 metri. La quantità di spiaggia, cioè l'arenile, sostanzialmente tra qualche decennio potrebbe non esserci più. Sì, infatti è proprio così. Proprio dallo studio effettuato dalle Università di Catania, che è la responsabile del progetto Leopoldia, si è visto infatti che la spiaggia sta arretrando inesorabilmente. Perché sono molte le cause. Una delle cause principali appunto è la scomparsa dell'habitat dunale, quindi la specie della Leopoldia e della macchia mediterranea presente nel territorio. Il progetto appunto vuole far sì di proteggere l'habitat dunale unico nella sua essenza, presente in tutto il golfo del litorale di Gela, quindi da Gela, Santa Croce Camerina, Scoglitti e Acate. Che cosa si può fare per evitare la conseguenza drammatica della scomparsa degli arenili che andrebbe a cambiare il volto completamente delle nostre coste? Allora, le cose fondamentali sono far conoscere e capire alla gente, l'habitat in cui vive, le spiagge sono seconde alle nostre foreste pluviali, quindi sarebbe bene non evitare l'eccessivo calpestio dei bagnanti in spiaggia, quindi mettere delle passerelle dove le persone possono scendere tranquillamente in mare, però non distruggere la biodiversità delle dune. Altri sistemi sono appunto delle paratoie che proteggono le dune e fanno sì che ricrescano e quindi danno la possibilità al vento di spingere la sabbia e riformarsi le dune. Ricordiamo che le dune sono una cosa molto importante per le nostre coste perché appunto proteggono la nostra terra.